Cavalli che si conoscono oltretutto, e questo anche ancora meglio, logicamente. Bene, partiti! In vantaggio, bella dentro, davanti a Stregatto, Napoli Madre, Ballilian, Silvestritt, Supercigo, Kojak, Capinera, Tuerreda, Lasalli, Petrulca, Calispera e Simbalaie. All'inizio della curva, passa bella dentro, davanti a Silvestritt, Stregatto, Ballilian, Isblood, Angel Beam, Napoli Madre, Capinera, poco prima dell'ingresso, è in vantaggio, bella dentro, davanti a Stregatto, Silvestritt e Ballilian. I cavalli sono in dirittura, con Silvestritt, in leggero vantaggio, a centropista, davanti a bella dentro, Kojak, Capinera, Calispera, Stregatto, Simbalaie, a centropista, passa Kojak, davanti a Capinera, Simbalaie, Petrulca, Silvestritt, si avvantaggia Kojak, davanti a Petrulca, Simbalaie, Capinera e Calispera. Carlo Rolando, il nostro Gabriele è un porbonner, perché ha portato fortuna anche al nostro amico Turco, inteso come Alessandro. È logico, ha vinto Kojak. Allenatore di Kojak, il numero due Kojak, scatenato Samuele Diana in sella, ma adesso qui bisogna venire a capo delle altre posizioni, perché balla un 17.000 di riporto sul quartier. Esatto, c'è strettissima foto fra il numero 4, il numero 16, Simbalaie, al quarto posto il numero 9, Capinera e al quinto il numero 3, Calispera. Calispera, quindi i chiacchierati sono lì, ma Piero non si pronuncia sul secondo posto, quindi ci dobbiamo lasciare con la incertezza. Forse ci può aiutare di nuovo Laurente Pomponi, se dopo ci manda quella laterale, però praticamente l'abbiamo vista, è uno sopra l'altro. Aspettiamo qualche istante, perché ci segnala Laurente Pomponi che appena è in possesso ci manda la foto, e quindi la foto magari sancisce anche a una parità, chissà. Vediamo, ecco, due. Sì, vediamo un po', vediamo un po'. Ecco, ma forse Simbalaie. Forse Simbalaie. Ecco la foto, ogni promessa e debito, e ci ha mandato la foto, ma dici? Il numero 4, Petrulca, 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 ha detto Petrulca. A presto, a martedì.